Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video guida in cui ho intenzione di mostrarvi come poter completare l'impresa Il Cimiero di Europa. La quinta ed ultima quest leggendaria dedicata al set d'armatura di questa location che ricompenserà con il casco del set e per poterla completare sarà richiesto di aprire tre forzieri sigillati dalla Stasi, per la precisione uno nel Nexus e due nel Pozzo dell'Infinità. Dunque io non vi rubo altro tempo, vi lascio dai clip video e buona visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.